Ehi, qual'è il problema, fratello? Quel tipo mi ha appena fregato il portafoglio! Cavolo, è bello veloce! Ma non veloce quanto te però, Spidey! Sì, la mia ragnatela in realtà funziona solo da... vicino vicino. Sì, ma fai tipo sfiu sfiu in mezzo agli alberi per raggiungerlo! Non faccio nessun sfiu sfiu, ad essere sincero. Cioè, potrei impigliarmi nei rami, capito? Un casino. I palazzi sono più... più il mio tipo. Ma sei serio? Io ho 100 euro sulla mia poste pay, cazzo! Ehi, fratello, non dare la colpa a me! Cioè, tu ti porti in giro la poste pay ed è colpa mia? Non puoi pagare con i contanti! A parte che girare con le carte non è sicuro e lo sanno tutti. Un portafoglio rubato e una lezione da Spider-Man! Che bella giornata!